sono le 7 di sabato 11 giugno 2022 questa è la rassegna stampa di fano tv ben trovati dunque amici per le notizie del giorno ne trarremo un sunto dalla lettura dell'arresto del carlino e del corriere adriatico ma prima di tutto vediamo qual è il santo del giorno e vediamo che oggi si festeggia un apostolo San Barnaba anzi un discepolo un discepolo che visse ovviamente contemporaneo alla vita di Gesù ne assistette ai suoi miracoli e si convertì soprattutto quando Gesù guarì un paralitico nella piscina probatica rimase colpito da questo fatto ed allora abbracciò il Vangelo fu un compagno di Paolo per quanto riguarda la sua predicazione egli stesso predicò il Vangelo in diversi paesi del loro mondo antico e morì lapidato perché appunto incontrò la resistenza degli ebrei di allora che si riferivano alla vecchia legge veniamo ora alle previsioni del tempo vediamo come il tempo si sta rasserenando rispetto alla perturbazione che ha caratterizzato questa settimana il tempo si mantiene stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione vediamo come le nubi si sono diradate su questa cartina rispetto ai giorni scorsi le temperature quindi sono in aumento essendo la giornata più assolata arriveranno dai 23 gradi di ieri ai 25 di oggi per quanto riguarda le massime e le minime si manterranno non più basse di 21 gradi vediamo anche i venti i venti ispireranno da nord e nord ovest sulle coste e da nord nell'entroterra comunque sono venti moderati ed ora apriamo il giornale anzi sì apriamo il giornale vedendo la prima pagina la prima pagina del Corriere Adriatico come abbiamo promesso appunto nella giornata di ieri di iniziare la nostra rassegna dalle prime pagine come ci è stato richiesto vediamo come il Corriere Adriatico accenta la sua attenzione sull'aumento delle tariffe per quanto riguarda i posti barca nel porto di Pesaro un rialzo vertiginoso del canone del posto barca in Darsene preoccupa diportisti e associazioni mentre la fotonotizia centrale è dedicata all'entrata in vigore all'entrata in funzione dei parcheggi al Santa Marta nell'alberghiero quindi una struttura molto molto importante per tutta la zona che introduce a Pesaro venendo da Fano mentre le tre notizie a centropagina che si riferiscono generalmente alla cronaca si riferiscono alla banda del garage quella banda che ha colpito 11 garage all'altro giorno rubando una Porsche e alcune biciclette e poi tenta di abusare le ragazze al ballo è stato arrestato un 25enne si tratta di uno straniero e poi il caso del uomo di Fermignano che desidera morire suicidio assistito raccolti addirittura 20.000 euro ne bastavano 5.000 per aiutare Mauro e poi un fatto inquietante un fatto inquietante perché a Barchi è stato trovato un cadavere di una donna in un lago di sangue è stato trovato nel divano di casa e il marito è in stato confusionale e quindi c'è ancora molta molta incertezza su questo fatto di sangue donna trovata morta sangue in casa ed è giallo e poi le elezioni amministrative le elezioni del referendum delle amministrative che si svolgono anche in alcuni comuni delle Marche alle urne in 210.000 per eleggere i 17 sindaci vediamo invece la prima pagina del resto del Carlino eccola è proprio la notizia del fatto di sangue di Barchi campeggia come titolo di apertura mentre la fotonotizia è dedicata ad un titolare di un esercizio che è stato multato per un fatto burocratico fatemi lavorare non perseguitatemi per questi adempimenti formali che in realtà contano poco conta la sostanza e poi le altre notizie di contorno San Pietrino Summer Street un festival il centro rivive per il settimo anno una delle tante importante però iniziativa di attrazione che si svolge a Pesaro e poi la cronaca cocaina nascosta tra sale e pepe una cucina stupefacente beh insomma non è che fa così brillare per la sua ammirazione ma proprio perché stordisce come droga e ancora mobilità passiva 7.000 pesaresi fuori regione per curarsi i viaggi sanitari per quanto riguarda appunto questo problema che colpisce in modo particolare Marche Nord e poi un grave errore distruggere la RSA Tomasello nuovo ospedale parla Bellucci per quanto riguarda invece le notizie di sport vediamo che per quanto riguarda il fanocalcio queste sono ore decisive per l'individuazione del nuovo allenatore e Mosconi in pole position mentre per l'Ital Selvis in paglio c'è lo scudetto stasera gara 2 col Napoli al Palafiera un appuntamento importante apriamo dunque il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano e vediamo come l'apertura è dedicata alla mareggiata alla mareggiata dei giorni scorsi che ha procurato danni danni in modo particolare a Fano Sud la mareggiata ha divorato anche quattro file di ombrelloni problemi ovunque da Sassonia all'Arzilla a Fano Sud Ponte Sasso i bagnini manca la manutenzione il mare fino alla terza o la quarta fila di ombrelloni presso la battigia pezzi di spiaggia ingoiati dalla burrasca boe che prendono il largo perfino una torretta di avvistamento in balia delle onde sbatacchiata come un fuscello un po' in qua un po' in là appunto dalle onde che si rincorrono l'una con l'altra ebbene ha picchiato veramente duro la botta di Tramontana che l'altro ieri pomeriggio ha sferzato anche Fano e il suo litorale a questo punto non bastano nemmeno più le scogliere perché poi il mare quando si ingrossa quando si alimenta dal vento dalle correnti dal maltempo e allora infrange anche le barriere che sono state costruite per tutelare il fronte spiaggia da quel momento in poi complice l'alta marea si sono susseguite otto ore di sofferenza racconta Matteo Garofoli di Isla Morada Dog Beach spiaggia di Ponte Sasso è una delle testimonianze appunto di quanto avvenuto nei giorni scorsi e poi il giornale parla delle spiagge libere per fortuna è stato assicurato anche quest'anno il servizio di salvamento nelle spiagge libere dove non c'è un bagnino stabile e chi l'ha assicurato? L'ha assicurato Giampiero Pedini con la sua associazione Incoming perché? Perché il bando del comune è andato deserto nessuno ha presentato un'offerta e questa volta se non si presentava nessuno questo servizio non veniva assicurato e sappiamo quanto è importante perché ogni estate succedono delle disgrazie e ne succederebbero molte molte di più se non ci fosse appunto questo servizio di allerta e di pronto intervento per quanto riguarda i bagnanti che si trovano in difficoltà in mare ebbene Giampiero Pedini dell'associazione Incoming questa volta ha tolto le castagne dal fuoco al comune e ha assicurato il servizio Vediamo ancora la pagina di Fano del Corriere Donna ritrovata morta sangue in casa il marito scoperto in stato confusionale è accaduto a Barchi l'allarme scattato nella prima serata di ieri lei sarebbe deceduta addirittura da più giorni secondo lo stato del cadavere il cadavere è stato trovato da un amico del figlio al quale il figlio si era rivolto perché non riusciva a mettersi in contatto non era insomma presente nella località non riusciva a mettersi in contatto con la madre ebbene questo amico l'ha trovata diversa sul divano in un lago di sangue e il marito anzi il compagno di sopra al piano di sopra in stato confusionale ancora i giornali non riferiscono particolari sulle motivazioni su quanto accaduto in questo caso perché ovviamente ancora non c'è stato il tempo di interrogare o di fare delle indagini approfondite in merito sono le prime notizie che appaiono ma ne sapremo di più nei prossimi giorni e poi il giornale parla della variante di Gimarra il comitato tiri in ballo la corte dei conti l'ultimazione dell'interquartieri che dalla trave dovrebbe unire la statale adriatica attraversando Gimarra tre quartieri contro aggraverebbe solo la già insostenibile situazione viaria sono gli ambientalisti di questi tre quartieri che si oppongono alla realizzazione di questa arteria perché provocherebbe un devastante impatto ambientale sulle colline di Gimarra vediamo come l'amministrazione comunale sotto la spinta del dirigente del partito democratico Renato Claudio Minardi ha confermato che entro l'anno si procederà per la realizzazione di questa arteria come appunto impone l'accordo che è stato fatto con la regione ma appunto gli ambientalisti insorgono e si riferiscono alla Corte dei Conti per un danno economico ed ambientale passiamo a Fossombrone a Fossombrone dei ladri se la prendono con la sede dell'Auser devastano rubano poche cose il bottino è di 350 euro ma addirittura rubano dolcetti e patate fritte proprio ladri così per modo di primo pelo insomma robetta però insomma il fatto è grave perché prendere di mira un'associazione di volontariato vuol dire fare cadere le braccia a tutti coloro che si dedicano ad aiutare gli altri e punirli per questo insomma mi pare una cosa veramente brutta veramente brutta invece voglio parlarvi di una cosa bella di una cosa bella perché questa mattina a Fano c'è un'iniziativa di carattere sanitario importante una iniziativa di carattere preventivo per una delle patologie più diffuse e purtroppo più determinanti per causa di morte del nostro territorio si tratta delle malattie causate da delle placche che si formano all'interno delle arterie si tratta dell'aterosclerosi oggi un'iniziativa organizzata dal primario di medicina di Marche Nord Gabriele Frausini che dalle ore 9 a Palazzo San Michele predisporrà uno screening un accertamento di tutti coloro che vorranno presentarsi la prestazione è gratuita per controllare lo stato delle proprie carotidi delle proprie carotidi che sono quelle vene superficiali che passano attraverso la gola e uniscono ovviamente il cervello è che quando sono intasate o espessite possono causare infarti o ictus e quindi è importante conoscere lo stato di questi flussi sanguinei per vedere se sono liberi o si sono intasati quindi dalle 9 alle 15 di oggi questo servizio è gratuito a Palazzo San Michele a Mondolfo tentano il furto in una casa ladri messi in fuga dai vicini danneggiano il portone non hanno rubato nulla perché appunto i vicini hanno capito che cosa stava accadendo e quindi li hanno demotivati ritrovata la scala che hanno utilizzato è stato un colpo tentato alle 7 del mattino ma poi appunto disturbati da qualcosa questi malviventi hanno desistito vediamo anche la pagina di Senigallia dove si parla di un boom per quanto riguarda gli affitti estivi delle case degli appartamenti turistici Villa Pieralisi una bellissima villa appunto di Senigallia ormai è piena di prenotazioni a partire da giugno che è una bassa stagione i prezzi aumentati però non hanno scoraggiato i turisti un'estate da record dunque per gli affitti estivi delle case piene anche a giugno in bassa stagione Villa Pieralisi è stata molto gettonata resta disponibile sono ancora per alcune settimane nel mese di settembre vediamo anche le pagine regionali dove si parla di elezioni ecco il titolo alle urne e in tutta la regione sono 210.000 gli elettori 17 sindaci da eleggere balottaggi in vista domani al voto per le amministrative sono sei le sfide nei comuni che potrebbero avere bisogno addirittura di un turno di spareggio che è fissato per il prossimo 26 giugno in due piccoli centri c'è un solo candidato che sfida l'astensionismo ebbene deve solo raggiungere il quorum per rendere valide le elezioni perché non ha nessun contendente e quindi è l'unico da eleggere vediamo comunque che sono 17 i comuni marchigiani al voto per le amministrative lo vediamo qui in questa tabella su un totale di 225 il 7,6% sono sei comuni al voto con eventuale balottaggio Iesi Fabriano Civitanova Corridonia Tolentino Sant'Alpidio al mare 11 comuni al voto con turno unico tra questi c'è Frontino Tavoleto Terre Roveresche nella provincia di Pesaro Corinaldo Fagna e Rosore in provincia di Ancona Camerino e Val Fornace a Macerata Pedaso a Fermo Porto San Giorgio ugualmente a Fermo Acquaviva Picena appunto ad Ascoli in provincia di Ascoli e Picena e poi si parla di referendum perché contestualmente al voto amministrativo c'è anche quello referendario 5 quesiti proposti in materia di giustizia con il rebus del quorum per poesia dunque l'incognita dell'affluenza serve il 50% più 1 dei votanti quali sono i 5 quesiti li ricordiamo è l'abrogazione del testo unico in materia di incandidabilità e poi la limitazione delle misure cautelari la separazione delle funzioni dei magistrati tra pubblico ministero e giudice la partecipazione dei membri laici alle delibere del consiglio direttivo della Corte di Cassazione dei consigli giudiziari e poi l'abrogazione delle norme in materia di elezioni dei componenti dogati del consiglio superiore della magistratura aiutatemi a morire ecco i soldi per Mario 20.000 euro raccolti in 24 ore una gara una vera e propria gara di solidarietà in seguito alla raccolta fondi lanciata dalla associazione Coscioni i costi del farmaco e i macchinari per il suicidio assistito non vengono forniti dallo Stato e quindi ognuno deve pensare per conto proprio per fortuna ci sono i volontari ci sono coloro che si dedicano all'aiuto del prossimo per aiutare in questo estremo gesto e poi vediamo come una risoluzione regionale determina la fine dell'azienda ospedaliera Marche Nord ormai decretata finisce l'era di Marche Nord come azienda ospedaliera addio all'Azur entro l'anno si parla della modifica della legge 13 che segna di passo il cambio della costituzione legale dell'azienda ospedaliera ebbene rimarrebbero soltanto a livello di sopravvivenza le aziende sanitarie le aziende sanitarie di Torrette il nosocomio di Torrette e poi l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per anziani ovvero l'INCA di Ancona questi rimangono come aziende ospedaliere mentre sparisce dal radar Marche Nord che perderà lo stato di azienda ospedaliera si tratta appunto della riforma della legge allo studio e in preparazione da parte della regione Marche l'ha annunciato l'assessore Salta Martini in spiaggia con il treno la Summer Experience viaggia su 30 frecce da domani in vigore l'orario estivo di Trenitalia confermati i link per il mare previsti due collegamenti in più con l'aeroporto di Falconara potenziati i servizi nel Piceno la provincia di Pesaro insomma le cose rimarranno come sono sempre state tra freccia rossa freccia argento tra cui un'Ancona Milano confermata a Pesaro e un'Ancona a Bolzano confermata a Pesaro e Senigaglia sono appunto i treni che fermeranno nella nostra provincia domani inizia l'orario estivo 30 collegamenti giornalieri con l'aeroporto e dal 19 giugno un nuovo collegamento festivo tra Ancona e San Benedetto e poi la pagina di Pesaro del Corriere parla dell'aumento del costo degli ormeggi nel porto turistico e molti scappano dal porto un rialzo vertiginoso del canone del posto barca preoccupa club e associazioni si è partiti da 350 euro nel 2020 nel 2021 si è saliti a 500 quest'anno pensate l'importo del canone è tornato a 2700 euro proprio un aumento terribile un aumento vertiginoso questura alla Cialdini alla caserma Cialdini sembra che la localizzazione della questura finalmente abbia trovato un placet l'iter in cassa infatti i primi sì la Cialdini questa caserma dovrebbe offrire la sede della questura della prossima questura che ora si trova nei pressi di piazza del popolo il prossimo passo è la firma dell'intesa per definire i dettagli dell'operazione e lo ha confermato anche il prefetto Ricciardi l'impegno di tutti è di procedere con la dovuta celerità ed è molto tempo insomma che la questione è in ballo e poi vediamo come il Santa Marta apra alla sosta per i bagnanti di Sottomonte una struttura veramente richiesta importante funzionale per favorire anche l'afflusso nelle spiagge si parte già da questo weekend da luglio stalli anche per i clienti degli alberghi rinnovata la convenzione per venire incontro alle esigenze di chi va al mare a questo punto apriamo anche il resto del Carlino abbiamo visto la prima pagina ora apriamo il giornale cominciamo la lettura dalla pagina di Fano dove vediamo che l'appello lanciato da un cittadino nei giorni scorsi perché un'area importante di parcheggio in Sassonia venisse liberata dal cantiere fermo da tanto tempo un'area preziosa per il parcheggio fosse rimessa in funzione e così sarà lo ha dichiarato l'assessore ai lavori pubblici Fabio Lattonelli dicendo che ha già avvertito l'ASET affinché l'area fosse sgomberata dalle strutture che la occupano e poi ieri si è riaperto il centro Rivestiamo quel centro che era stato danneggiato irreparabilmente nella sua sede di Centinarola da un incendio scaturito per un cortocircuito finalmente è stata trovata una nuova sede si tratta di un locale al civico 23 di via Buratelli a Cucurano presso cose senza tempo ovvero un'altra delle attività sociali per il riciclo e riuso che ha dovuto sacrificare degli spazi per far posto al centro diocesano di raccolta indumenti ora tutti coloro che hanno degli indumenti in disuso che possono essere dati a chi indumenti non ha li possono portare al civico 23 di via Buratelli a Cucurano insomma dove c'è cose senza tempo ancora sul resto del Carlino un giorno di maltempo e spariscono gli ombrelloni e si parla dell'ammareggiata una mareggiata terribile così viene identificata per molti stabilimenti a Sassonia e a Ponte Sasso gli amministratori parlano ma cosa fanno dicono i bagnini pensano al salottino in centro e beh è una ironia in questo caso viene alimentata dall'amarezza per quanto è accaduto e poi si parla di asfalti finalmente iniziano i lavori per asfoltare diverse vie per un importo per un importo considerevole di 3 milioni e 700 mila euro si parte da mercoledì prossimo in diverse vie del centro e della periferia della città di Fano a Urbino mostre e tornei per festeggiare il Duca anche in questo fine settimana ci saranno tante iniziative dedicate a Federico da Montefeltro di cui si celebra il 600esimo anniversario le compagnie d'arme faranno dimostrazione di combattimenti raviveranno quell'atmosfera rinascimentale che caratterizza Urbino tutto l'anno e questa volta la animeranno di figure cavalleresche appunto con tornei duelli insomma uno spettacolo veramente interessante vediamo anche l'altra notizia che riguarda l'ospedale di Sasso Corvaro ebbene è stato inaugurato il reparto di lungodegenze mercoledì diventerà una realtà funzionale si tratta di un progetto di accreditamento da parte di un privato che ha realizzato 20 posti di lungodegenza 12 di cure intermedie un reparto di chirurgia e di desurgeri e alcuni posti di ortopedia più tante attività ambulatoriali a Sasso Corvaro una struttura di carattere ospedaliero che viene rimessa in funzione serve una larga platea di utenti appunto nel Montefeltro a questo punto diamo un'occhiata anche allo sport vediamo come brilla l'ex vice pastor ha vinto la C spagnola si tratta del difensore centrale classe 99 che ha trovato la sua consacrazione nei professionisti a Pesaro nella stagione 2018-2019 aveva dimostrato tutto il suo valore in questo caso viene intervistato da Nicolás Masetti appunto sul resto sul resto del Carlino e per quanto riguarda invece il Fano Calcio vedremo come oggi si attende la grande notizia in quanto oggi dovrebbe essere annunciato il nuovo mister il nuovo allenatore della squadra a meno che non accada una clamorosa sorpresa dovrebbe essere Andrea Mosconi ex Tolentino con un passato da calciatore in serie C c'è un'attesa la scelta dell'allenatore consenterà poi di pensare al mercato e di rafforzare quella squadra che ha bisogno di sostegni per condurre il prossimo campionato almeno in una situazione di tranquillità e di salvezza e questo è tutto per oggi Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento alla rassegna stampa di lunedì prossimo che sarà condotta da Marco Ferri e noi poi ci risenteremo alla settimana successiva questo è tutto buon weekend buona giornata a risentirci buon weekend 거야 Grazie a tutti.